Adesso che una forte scossa ha ricordato a tutti la vulnerabilità del nostro territorio a dura prova nei secoli, qualcuno si ricorderà dell'assurda classificazione di Catania e di gran parte della provincia etnea in fascia sismica 2. Così la regione nega fondi necessari al consolidamento di infrastrutture e di edifici pubblici e privati. Così la politica condanna Catania alla paura. Queste le dichiarazioni di Enza Melli, segretaria generale della UIL di Catania, che ricorda ancora una volta come tutta la zona sia particolarmente sensibile, anche se per fortuna la scossa di ieri non ha fatto danni. Solo a Mister Bianco, con il crollo di alcuni calcinacci, cornicioni e pezzi di stucco in gesso, dal tetto della chiesa di San Nicolò è stato effettuato uno sopralluogo dal sindaco della cittadina Marco Corsaro, accompagnato dai tecnici comunali e dal dirigente della protezione civile regionale Salvo Coscina, insieme all'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che hanno disposto la chiusura della parrocchia. Dunque, dopo quello di magnitudo 4.4 delle 14.06 di ieri, con ipocentro nel Mar Ionio, a circa 5 chilometri da Asci Castello, un altro sisma è stato registrato durante la notte ed è stato avvertito in Sicilia orientale. Stavolta è stata una scossa di magnitudo 5.5 registrata a Malta alle 00.19. L'ipocentro è stato individuato in mare a diversi chilometri a sud-est dell'Isola dei Cavalieri, ad una profondità di 10 chilometri. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana conferma che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Catania, Raguse e Siracusa. Non ci sarebbero comunque segnalazioni di danni. È su disposizione del Dirigente Generale della Regione, Salvo Coscina. Dopo la nuova scossa sono stati preallertati i sindaci e le strutture di protezione civile per eventuali interventi e la verifica dei danni. A scopo precauzionale sono state messe sotto osservazione le aree costiere per un probabile maremoto, preallertate anche le organizzazioni di volontariato.